C'è una nuova minaccia per l'umanità devastata dei giganti. Questa volta, il pericolo è all'interno della capitale. In esclusiva per l'Italia e a poche ore dalla messa in onda in Giappone, l'attacco dei giganti, stagione 3. Dal 22 luglio, ore 21, su vid.it. Accedi al sito e crea il tuo account gratuito. E se decidi di abbonarti, puoi vedere la nuova stagione senza spot.